Sul bellissimo circuito disegnato dalla SD Micro Macro tra le colline di Miglianico e Ripa Teatina sono stati assegnati i titoli individuali di corsa campestre. Circuito affascinante ma anche impegnativo come deve essere un cross country oltre al freddo davvero pungente che ha messo a dura prova chi ha scelto di cimentarsi in questo evento tra i più importanti del calendario abruzzese dell'atletica. Hanno gareggiato in tutte le categorie dalle allieve e allievi a salire in su fino alla categoria dei senior. Tra i titoli assegnati quello più appassionante anche perché ottenuto nella prova più affollata è stato quello di Promesse e Senior Uomini 10 km distribuiti in 5 giri. Ha vinto il favorito della vigilia nonostante una caduta l'italiano di origini etiopi Benjamin Senibeta Adugna ha chiuso appena al di sotto dei 39 minuti, crono indicativo che fa ben comprendere la difficoltà estrema del percorso e ha superato due atleti che hanno inscenato un emozionante duello. Secondo Tommaso Giovannangelo, terzo Alessio Bisogno. Tra le promesse si sono invece piazzati nell'ordine Scarlato Verzella e Mancini. La gara più lunga delle donne è stata quella di 8 km senior e promesse dove assoluta dominatrice è stata la triatleta Sharon Spimi prima dall'inizio alla fine davanti a Zulli e Di Prinzio. Spimi ha vinto anche la categoria promesse davanti a Manias. La categoria Juniors ha corso sugli 8 km negli uomini e sui 6 km tra le donne. Nel primo caso l'ordine d'arrivo ha dato ragione a Matteo Rossi, solitario su Edoardo Pretara. Nell'altro Giulia D'Ambrosio è stata molto convincente e ha sconfitto Zoe Pretara e Giorgia Monti.